Signori, signori, Sandro, chi? Chi è quello? Tra le banche Guarda l'uomo Vero quelli che rapiscono Ok, vai Dove siamo? Benvenuti a Franne Corone Sedicesima tappa del Giro d'Italia Non fa tanto freddo, però ci sta bene Se va col fanclap, morri su soli Chi è questo? Dario Sala Ehi, combinati! Ma è Dario che vai su YouTube Sono già su, hai visto il canzellare Eh, nostra YouTube Gana Hai visto qualche visualizzazione? Eh, beh, la cosa è... Ah, è un video Dove siamo? Ah, Franne Corone Guarda la striscia nel possone Questo? Dopo Non è che fa me e ruote, le moto tre ruote lì Vanno tutte le banche Ok, questo è lo strisciolo del Morris Però spostandoci sulla destra O qualcuno, esatto Eccolo lì Tira una palla di nero VE A Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info